Non è bastata la sesta vittoria consecutiva all'Under 16 femminile del gruppo polisportivo Vallo per accedere ai playoff. Nella decima e ultima giornata del campionato provinciale di categoria Girone D, le ragazze di Mister Nello Sanzone hanno vinto per 3-0, 25-11, 25-9 e 25-15 l'andamento dei set contro la polisportiva Rocca d'Aspide, nella sfida giocata venerdì sera presso il palazzetto dello Sport della città rocchese consolidando il secondo posto in classifica. Dei 5 gironi accedono ai playoff le prime classificate e le 3 migliori seconde e tra queste purtroppo non ci sono le giovani pandaleonine. C'è il rammarico, soprattutto per la prima parte di campionato dove i punti racimolati sono stati pochi. Per quanto riguarda la prima squadra femminile, dopo una settimana di riposo dovuta all'invio della gara contro le Pessire Lions di Montecorvino Pogliano, l'incontro verrà recuperato mercoledì 13 marzo, è arrivata un'altra vittoria, la settima in otto partite giocate, sabato, nella trasferta contro l'ingrocio Ponte Cagnano. Un 3-0, 25-12, 25-16 e 25-18, che consente alla compagine di Misterrello La Gloria di mantenere saldo il primo posto in classifica nel girone B del camionato provinciale di prima divisione. Torna alla vittoria l'Under 14 femminile, che dopo la sconvitta casalinga subita nella scorsa giornata, è tornata a vincere per 3-7-1 nella sfida giocata martedì al Palazzingaro di Sala Consilina contro la squadra locale della Rosciano Distribuzione. L'unica squadra del gruppo polisportiva da aver giocato in casa questa settimana è stata l'Under 15 maschile. Purtroppo però, mercoledì, presso la palestra sita all'interno della scuola elementare Aldomoro, i giovanissimi vallesi, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, hanno subito l'ennesima sconvitta, causata stavolta dall'MC Luna di Camerota. Infine una novità. Sono stati stilati i calendari del camionato Under 13 femminile. Il gruppo polisportivo Valle è scritto due squadre, inserite entrambe nel girone. La compagine B debutterà giovedì prossimo in casa contro il Valdiano, mentre la compagine A sarà impegnata domenica a Camerota. La quinta squadra presente nel girone è la Valle Agropoli.